Buonasera, buonasera a tutti. La prima domanda io gliela farei fare direttamente dal Presidente del Consiglio, da Mario Draghi. Senta un po'. Volevo sapere un po' da lei se, come dice il Ministro Garavaglia, possiamo iniziare a pensare di prenotare le vacanze estive. Il Ministro Garavaglia dice che si può pensare, io sono d'accordo con lui, io lo farei, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri. C'è un tono già di dispiacere, ma chi me l'ha fatto fare? Lei prenoterebbe le vacanze, professoressa, per quest'estate? Sì, ho già prenotato una settimana. Ah, che bello. Quindi l'ho fatto. Quindi assolutamente, io ci credo fortemente. Ma lei che estate si immagina, anche perché sarà l'estate dei vaccini, ma è anche la seconda estate, quindi siamo memori anche degli errori dell'anno scorso. Che estate si immagina che sarà? Mi aspetto, ovviamente un'estate ancora non completamente normale, perché il virus comunque sarà ancora in circolazione, anche se di meno, e perché non saremo tutti vaccinati. Però sarà un'estate molto simile a quella dello scorso anno. Quindi se si ricorda, insomma, abbiamo vissuto, non dico un'estate normale, ma insomma seminormale. Quindi quest'anno, quest'estate seminormale, tra l'altro, non sarà seguita da una fase di ripresa del contagio, sempre se le vaccinazioni procedono a ritmo serrato. Quindi io spero davvero che sia un'estate di ripresa e di serenità. È un'estate da non sprecare, no? In polemiche cose, ma utilizzare per vaccinare. Ecco, in attesa delle cure, professoressa, l'auspicata normalità, lo diceva anche lei, passa dai vaccini. Però ecco, ci aiuti un po' a fare chiarezza, perché le indicazioni ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che anche i vaccinati devono continuare a tenere le precauzioni perché possono contagiarsi e anche infettare. Ecco, ci puoi spiegare bene come stanno le cose? Perché è un passaggio molto dedicato. Allora, no. Noi abbiamo detto che all'inizio, quando i vaccini sono arrivati, che non sapevamo se questi vaccini fossero in grado di bloccare anche l'infezione. Adesso però questi dati sono arrivati. Da Israele, per esempio, ci viene detto che la vaccinazione ha bloccato l'infezione, blocca nel 94% dei casi l'infezione, è un'efficacia estremamente alta. Quindi anche l'infezione, anche la malattia asintomatica viene bloccata. E ovviamente se una persona non si può infettare, non può contagiare. Questi dati, dati molto simili, ci arrivano dal Regno Unito. Quindi tutto questo ci dice che questi vaccini sono in grado di bloccare non solo la malattia, ma anche l'infezione. E di conseguenza sono in grado di bloccare i contagi. Infatti, sempre gli studi che arrivano da Israele e dal Regno Unito mostrano un netto calo dei contagi. Sono stati fatti anche degli studi all'interno delle famiglie e delle persone vaccinate, mostrando appunto che il contagio non c'è. Naturalmente, quando noi diciamo che il contagio non c'è, parliamo di grandi numeri. Niente nella medicina è al 100%, quindi l'eccezione ci può sempre essere. Ecco perché, per esempio, il CDC americano, una sorta di istituto superiore di sanità, ha cambiato le linee guida e cosa ha detto? Ha detto che le persone vaccinate, che però abbiano completato il ciclo di vaccinazioni, possono non fare il tampone, possono non fare la quarantena se vengono in contatto con una persona positiva. Possono anche andare a trovare degli amici senza la mascherina, ma naturalmente, se invece vanno in un contesto dove c'è tanta gente oppure se ci sono delle persone fragili, in questo caso, proprio perché non siamo mai sicuri al 100%, è bene tenere la mascherina. Io sono sicura che l'Istituto Superiore di Sanità rivedrà presto le sue regole. Le sue regole. Intanto, però, ci sono molti casi di contagiati dopo la prima dose e questo un po' preoccupa. Perché sta succedendo? Ma questo dipende dal fatto che, come sappiamo, ci vuole del tempo prima che il sistema immunitario riesca a montare una risposta protettiva. E allora quello che succede è che le persone fanno il vaccino e magari già dal giorno dopo pensano di essere protette e quindi si espongono a dei rischi. Quindi sono dei comportamenti scorretti. Noi dobbiamo ripetere che la protezione arriva dopo che il ciclo di vaccinazioni sia completato. Quindi dopo la seconda dose. Quindi è una cosa psicologica. Poi come quelle squadre che hanno vinto il primo tempo e entrano in campo rilassate. E poi prendono la mazzata. Ecco, chi si è preso il Covid? Se lo può riprendere? Questo mi interessa molto. Questa è una domanda, ma è stato, diciamo, lo sappiamo. Allora, proprio in questi giorni sono usciti dei lavori molto interessanti da questo punto di vista che dicono che aver avuto la malattia conferisce un'alta protezione, 80% di protezione. Quindi cosa vuol dire? Che la possibilità di infettarsi una seconda volta è estremamente bassa. Quasi come essere vaccinati, diciamo. Hai già uno spettro di copertura quasi come un vaccino. Soltanto che questo non è uguale per tutti. Per cui nelle persone oltre i 65 anni invece la protezione è inferiore al 50%, il 47%. Quindi anche in questo caso dipende dall'età. Per questo motivo forse si può pensare di rimandare le vaccinazioni delle persone più giovani che hanno avuto un Covid sintomatico perché anche questo fa la differenza e invece magari continuare con le vaccinazioni delle persone più anziane perché hanno un rischio clinico maggiore. Senta, professoressa, in uno scenario di già appunto complicato c'è anche chi si è messo a fare disinformazione addirittura dal pulpito, da un altare di una chiesa. Guardi un po' queste immagini, questo video. La sperimentazione e l'uso dei vaccini, cioè gli ingredienti del vaccino sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti. Abbiamo solo mandato un pezzettino perché, ahimè, era un po' più... Era anche peggio, no? Era anche peggio. Lui si chiama Don Paolo Pasolini, non Pierpaolo per fortuna, ma è un parroco di San Rocco in provincia di Cesene. Cosa possiamo rispondere a questa affermazione fatta da un luogo anche che la rende più grave, diciamo? Sì, io ho visto tutto il video, ho ascoltato tutto il discorso. Beh, mi dispiace però, il parroco è vittima di disinformazione perché queste sono proprio le cosiddette fake news, cioè delle notizie false. Nel senso che è vero che esiste una linea cellulare che negli anni 70 è derivata da un aborto. Ma questa è una linea cellulare che viene utilizzata nei laboratori da tanto tempo e sono cellule che vengono tenute in coltura che sono derivate appunto tanto, tanto tempo fa da un aborto. Ed è vero che per amplificare gli adenovirus si usano appunto queste linee cellulari. Ma questo non vuol dire che si usino i feti abortiti per fare il vaccino. Questo è completamente disinformazione, non è vero. Si usano delle linee cellulari che esistono da 30 anni. Tra l'altro la cosa che mi colpiva Massimo all'inizio del discorso, non lo abbiamo fatto sentire, lui diceva, come voi sapete. Sì, sì, dava per scontato. Perché questo intercalare tipico, come voi sapete, la luna è quadrata. Ma è... cioè non c'è... Se il Santo Padre intervenisse non sarebbe male, eh, su questo parlo. Ha tagliato, come diremo dopo, ha tagliato gli stipendi dei cardinali. Eh, magari, poteva dare un taglio anche lì. Senta, professoressa, ancora un'ultima curiosità, che poi non è tanto una curiosità, proprio mentre stiamo andando in onda, proprio adesso, ad Amsterdam, 5.000 persone stanno entrando allo stadio per vedere una proletta di calcio. Dice, oi boh, che succede? No, è un esperimento scientifico. Nel senso che li hanno tamponati tutti, sono visionati, l'hanno fatto la stessa cosa qualche settimana fa in una discoteca dove hanno messo mille persone in un party. Forse dovremmo anche vedere le immagini alle nostre spalle. Per studiarli, proprio un po', gli scienziati stanno valutando le reazioni. Ci spiega un po', dica la verità. Cioè, torneremo alla vita di prima, perché poi ogni tanto ce lo diciamo sotto voce. Ma io le posso confessare una cosa. Io, a certe volte, ho perfino nostalgia delle gomitate sui tram e in metropolitana. Cioè, riusciremo di nuovo a ritrovarci un gomito appoggiato sulla metropolitana? Sì, ci riusciremo e, come ho sempre detto, ci riusciremo quando avremo messo in sicurezza le persone fragili, le persone che quindi hanno un rischio di sviluppare una malattia grave. Noi dobbiamo superare la paura. Prima o poi dovremo sbloccarci. Ma per farlo abbiamo bisogno del vaccino. Abbiamo bisogno di avere un buon numero di persone vaccinate ed ecco perché penso che dopo l'estate la nostra vita tornerà più o meno normale. E con questa bella frase io la congedo, la saluto e ci vediamo sabato prossimo. Intanto mi ha già fatto stare bene per un po'. Mi ha visto di buon umore. Grazie professoressa.